Le valutazioni di questi giorni sono poi, credo, le medesime. La gestione della Germania che è migliore, è un discorso legato a qualche settimana fa, sempre per questi famosi assembramenti, due o trecento persone le hanno messe in isolamento per minimo quindici giorni, qui poi i test sierologici ci sono, non ci sono, vengono fatti e sì, andate, ritorno, però poi se uno è tra le altre cose, anche per il tampone asintomatico per cinque giorni, contrae il virus, poi lo passa ad altri, magari negativo successivamente, quindi va fatta attenzione, ormai abbiamo detto, ripetuto più volte, vanno evitati gli assembramenti e quindi considerando che per esempio Milano, Milano è provincia, da maggio adesso, casi da doppiati, triplicati e quindi non è il massimo da questo punto di vista. Nulla, e anche le manifestazioni di ieri si potevano evitare, Roma, Milano, ma mi sembra che qui un po' tutti fanno finta di nulla, vedi sai, e ribadisco, si potrebbero evitare gli assembramenti e sarebbe meglio per tutti, ecco.